Sabato 11 settembre nell'area di Villa Prelato di Fano si è svolto il convegno dal titolo 20 anni con l'Africa nel cuore in occasione del ventennale della fondazione dell'associazione l'Africa Chiama Onlus. Presente all'iniziativa il sindaco di Fano Massimo Seri, consigliere regionale Luca Serfilippi, l'assessore Dimitri Tinti e il vicario Don Giuseppe Marini. Ad introdurre la serata il presidente dell'associazione Anita Manti che nel rimembrare le origini dell'associazione ha voluto ricordare la figura di Italo Nannini da poco scomparso, anima di questa avventura insieme alla sua famiglia, inoltre ha ringraziato i tanti volontari che ogni giorno lavorano qui e in terra di missione. L'Africa Chiama è relazione e incontro di persone, siamo nati con un legame particolare con la comunità Papa Giovanni XXIII per poi proseguire e crescere, ma non ci siamo sradicati dalla nostra natura, continueremo a lavorare con sobrietà e dignità, sia pure nella sicurezza, senza mai strafare. Il presidente ha poi ripercorso le tappe di questi vent'anni di lavoro e dei progetti attivi in Zambia, Kenya, Tanzania, Italia, con un impegno economico di oltre 890 mila euro nel solo anno 2020. Il nostro lavoro, ha concluso Anita Manti, non è per carità ma per giustizia verso i più bisognosi.